berlusconi forza italia non subisce l'egemonia degli alleati dal primo dicembre partiamo dai congressi in più di mille sezioni noi esistiamo come partito quindi è un percorso che non fa in un quarto d'ora così ha risposto il leader della lega matteo salvini a proposito del congresso nazionale del partito a margine della riunione del gruppo regionale della lega palazzo pirelli ai giornalisti che gli chiedevano se c'è una data salvini ha risposto che sarà un percorso che cerchiamo di fare in fretta sperando che la situazione sanitaria rimanga sotto controllo silvio berlusconi intanto ha incontrato i coordinatori regionali di fai sottolineando che non c'è nessuna egemonia da parte degli alleati e forza italia non cerca altre alleanze perché l'unità nazionale è temporanea e nel 2023 si tornerà alla sfida tra centrodestra e sinistra a 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